Un bellissimo torneo, il primo anno qui a Montesilvano al Magister Village, devo dire che il report e il supervisor è stato da dieci all'ode, quindi meglio non poteva andare, tantissimi giocatori da tutte le parti del mondo, una settimana di bel tempo, una finale molto bella fra un giocatore italiano emergente come Gabriele Pennaforti e la testi di serie numero uno, lo spagnolo Carlos Sanchez-Cover, quindi tutti gli ingredienti per un torneo veramente formidabile e l'augurio di rivelerci qui l'anno prossimo sempre al Magister Village. Sì, la verità è che la zona è molto parecita a dove vivo io in Spagna, è molto caldo, è umido e sono in condizioni buone per me, per giocare qua, e la verità è che ha stato una settimana molto completa, e ringrazio a tutta l'organizzazione del torneo per questa settimana qui, mille grazie. Sì, ma mi sono trovato bene con tutti, con tutti gli addetti diciamo, è stato un buon torneo per me e sono contento. Peccato per oggi, però spero di rifarmi. Ma non ho metto due momenti, uno su 5-4 al primo set che potevo rimettere le cose in parità e dal secondo set al primo mio servizio non mi sono sentito così carico e spero la prossima volta di sentirmi ci.